Non prega, non stai capendo! È al pronto soccorso, non c'è stato tempo per discuterne. Perfetto, cominciamo adesso. Mettimi in viva voce. Cos'ha provocato la sincope? Il tuo paziente è stabile, ci sono decine di altri. A cui non serve una diagnosi, ma solo qualche benda. Cos'ha provocato la sincope? Reazione vasopagale. Menigione, malattia del nodo del seno. Oppure ti sbagli e sei addormentato. Con 50 tazze di caffè in circolo nelle vene. Ma è stato interno di medicina? 110, 11 e 12. Dov'è 13? Non è qui, è la risposta alla tua prossima domanda e non so dove sia. Hai la risposta anche per quest'altra? Può essere una lesione occupante spazio nel cervello. Una risonanza lo dimostrerà. O dimostrerà che ha subito un trauma cranico nel crollo. Beh, verifichiamolo. Due piccioni con una risonanza, falla. Non trovo una vena per mettere la flebola dalla. È più debole? Più pallida? No, è stabile. Quindi la perdita di sangue è minima. Questo ci dà tempo. Dobbiamo farle subito una fisiologica intraossea nella tibia. Questo non te ne insegnano al corso per infermieri. No, è bene. No, è montrerai. Grazie a tutti